Oggi mi trovo a Itri, alle nostre spalle ci trova Itri, esattamente dietro quella collina dove vedete queste case bellissime bianche sono venuto a trovare Giuseppe che è il promoter e l'inventore di questa magnifica edizione di Best Wine che si terrà a Terracina il 28 e il 29, io ho già avuto il piacere di partecipare a un evento che abbiamo fatto era a giugno? Era, diciamo, fino agosto, alla Nuvio? Ah, fino agosto, ne facciamo talmente tanti che non mi ricordo e quindi ho potuto apprezzare Giuseppe come organizzatore, l'evento, la passione che ci mette e quindi oggi, sul suo invito, sono venuto a trovare la terra che mi lega molto al mio cognome perché è una terra, Itri è il paese nativo di mio padre e soprattutto dove la radice del mio cognome è nata quindi ho apprezzato moltissimo l'invito di Giuseppe e Chiara, tra l'altro e oggi mi trovo qui e voglio assolutamente presentare, prima dell'evento voglio lanciare questo Best Wine di Terracina allora, parlaci un po' di questo Best Wine di Terracina che ci sarà il 28 e il 29 sì, siamo quasi a ridosso, ecco, un bel pomeriggio di settembre ci ha accolto qui e grazie per aver accolto questo invito qui a Itri e parliamo sempre del nostro Lazio meraviglioso qui è veramente una perla ridosso di Terracina, ridosso di Sperlonga qui siamo un po' più nell'entroterra ma insomma sempre baciati da questa area di mare che in qualche maniera rende così colorate e sapidi anche i vini che si assaggiano da queste palle e parlando di Lazio non possiamo che parlare insomma anche dei vini che verranno posti in rassegna a Terracina Terracina perché ha anche una connessione importante col territorio Terracina anche storicamente era proprio diciamo il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico due culture messe a confronto, messe a confronto anche da un punto di vista viticolo quindi ci troviamo in un posto che era tanto caro agli antichi romani assolutamente lasciando l'anuvio che era ridosso dei castati romani ce ne siamo tornati nel Lazio Sud che è come dire, tanti imperatori romani lo tenivano in considerazione ebbene dalle terme c'era Tiberio che è la sua grotta di Tiberio a Sperlonga insomma ci hanno realizzato le proprie dimore estive veramente spettacolare e quindi Terracina avrà un suo percorso e un nesso della degustazione sarà proprio mescolata a un centro storico meraviglioso anche qui avremo il piacere di presentare una città che significa tanto da un punto di vista etnologico perché è una docca anche Terracina il Moscato di Terracina è divenuto famoso anche grazie a delle aziende che hanno saputo valorizzare questo vitigno ma nel quale si parlerà oltre che del vitigno principe che ci ospita si parlerà di tante aziende che vengono a presentare i loro prodotti piccole aziende sì, tante è vero piccole aziende la maggior parte sono piccoline potrete trovare effettivamente tante nicchie tanti nuovi produttori tante sperimentazioni così le chiamo queste che tendono sempre a una qualità sempre maggiore del nostro territorio e avremo un percorso che abbraccia tutto il centro storico quindi avremo la piazza Municipio che è una piazza romana dove c'è addirittura un tracciato dell'appia antica che è possibile siamo a ridosso che è possibile proprio degustare insieme a questi vini e poi avremo il castello Frangipane che rappresenta un po' l'aspetto medievale di Terracina presentato che anche appare su tanti dipinti storici dell'epoca e poi finiremo il percorso in una grotta romana riscoperta perché è una grotta privata che fa parte anche di un ristorante a Terracina questa grotta romana che finirà il percorso quindi queste tre tappe dove nel centro storico sarà bellissimo ci saranno artisti ci saranno le botteghe aperte delle piazze e in più ci saranno degli approfondimenti degli approfondimenti che vedranno proprio l'archeologia terra cinese presentata da un archeologo perché io dico un aneddoto molto importante Terracina era una delle zone di produzione di anfore e le zone di produzione di anfore romane erano collocate in maniera adiacente ai territori di produzione del vino e un caso particolare di cui narrerà l'archeologo Piero Longo è proprio il naufragio di una nave di anfore che partì da Terracina e praticamente naufragò in Francia e in Francia a Genset c'è praticamente proprio un museo dedicato alle anfore quindi il vino che veniva esportato dall'Italia alla Francia in quell'epoca quindi vi ho detto tutto insomma i francesi sono venuti evidentemente dopo almeno nei contenitori insomma siamo andati primi noi poi nel vino sono nettamente superiori a noi allora quindi io vi invito a venire a Terracina anche da lontano perché è una manifestazione veramente che merita non solo per la parte enologica ma anche perché la grande attenzione di Giuseppe era quella anche di far conoscere la location dove andiamo comunque dove andiamo a fare gli eventi dico andiamo perché comunque io partecipo per la seconda volta non c'entro niente con l'organizzazione che è fatta tutta da lui e dai suoi collaboratori che sono magnifici che hanno rispetto di noi sia che presentiamo i vini ma anche di produttori magnifico quindi accolgo l'invito di Giuseppe ogni volta con molta molta gioia e quindi la tua caratteristica importante rispetto a tante altre persone che organizzano i eventi è che comunque tu fai un connubio fai conoscere la città e quindi Terracina, gli scavi in questa parte archeologica con la parte culinaria perché ci sono anche dei produttori di eccellenza agroalimentare che propongono altri prodotti col vino sì, certamente ci saranno circa una cinquantina e più di espositori che proporranno i loro assaggi nelle varie location e noi come ha detto Stefano siamo una manifestazione elegante ma fa rima anche itinerante quindi ce ne andiamo a spasso nei vari territori quindi evidenziando le bellezze, le produzioni e quindi le eccellenze sia culturali che gastronomiche perché Best One per adesso si occupa della parte sud del Lazio sì, siamo sei in evoluzione con altre situazioni ci stanno chiedendo tanti territori ma vogliamo effettivamente far conoscere bene questa nostra fetta di Lazio ci siamo spinti nei Castelli Romani probabilmente su invito di Stefano ci andremo anche nella provincia di Viterbo magari ci auguriamo sì, perché anche noi abbiamo tanti fini da proporre poi abbiamo bisogno di gente come te che ha tanta passione e che ci spinge a far conoscere questi prodotti non solo ai consumatori che oggi comunque diciamocelo tra di noi che rimanga tra noi sono un po' ignoranti sotto l'aspetto enogastronomico perché noi viviamo nel paese più importante a livello di enogastronomia del mondo però la parte comunque di conoscenza dell'utente finale che poi va a fare l'acquisto è ancora, siamo molto latenti quindi abbiamo bisogno di gente come te che porta con questa filosofia che è la filosofia di non far pagare lo rinnovo che Giuseppe non fa pagare lo spazio ai produttori proprio per il grande rispetto che ha nei confronti dei produttori e poi far conoscere le città ecco perché ha inventato questa formula itinerante non si fa nello stesso posto nello stesso albergo mai ma si fa in spazi molto spesso aperti lo spazio del comune lo scavo il castello la chiesa sconsacrata esatto e questo è un altro merito che ti riconosco grazie Stefano e mi fa piacere se ce la facciamo a portarti nella tuscia mi farebbe molto piacere mi farebbe piacere anche a me i produttori comunque hanno questo impegno di far conoscere il territorio di far conoscere questi territori esatto e quindi vedrete che ecco noi vogliamo che ai banchi di degustazione c'è proprio il produttore che vi racconterà la sua filosofia o c'è Stefano Saccoccio che magari con la sua passione proprio assimila tutte quelle caratteristiche delle aziende di cui si innamora proprio per presentarvele a voi visitatori o gente come me perché comunque non sono solo io che ho questa passione comincio strada facendo girando l'Italia sto riscontrando che ci sono molte persone come me che hanno passione che credono in questo settore e secondo me che ci regalerà grandi soddisfazioni nei prossimi anni e credono soprattutto in territori poco conosciuti perché oggi i vini scuso Piemonte, Toscana e Veneto insomma le altre regioni come noi in Lazio sono poco conosciuti anche se secondo me è di grandissima qualità e secondo me sono vendibili anche all'estero quindi vi invito il 28 al 29 quindi il prossimo weekend a venire a Terracina per Best Wine Terracina arrivederci un saluto a tutti grazie a tutti grazie